Questa attività nasce su richiesta dell'amministrazione comunale, dell'assessore Rosa, del sindaco Clemente Mastella e come Lions abbiamo aderito al club Arcotraiano, abbiamo aderito con molto piacere perché tra i scopi dell'ionismo c'è anche la tutela dell'ambiente. Cercheremo nel nostro piccolo di dare un contributo alla cittadinanza e alla città cercando di tenere quanto più possibile in ordine e pulita quest'area un modo per esprimere la cittadinanza attiva che da sempre caratterizza il laionismo. Sempre di concerto con l'amministrazione cercheremo di organizzare attività ricreative, attività sportive visto che è un'area comunque dotata di attrezzature ginniche che possono essere utilizzate anche per coniugare momenti di divertimento e momenti di salute.